Un pareggio pesante per ripartire in campionato? Certo, secondo me abbiamo meritato di vincere oggi. Abbiamo fatto una bella prestazione, purtroppo non siamo riusciti a portare quasi tre punti, però siamo stati bene durante tutta la partita. Un Perugia che meritava la vittoria soprattutto nel progetto per il gioco che ha creato, però è andato sotto di due volte. Avete avuto la forza di reagire questa volta? Sì, sì, anche nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma purtroppo non siamo riusciti a mettere quella situazione che abbiamo creato, però abbiamo giocato molto bene durante tutta la partita e secondo me se continuiamo così possiamo raggiungere qualcosa di importante in questo campionato.